Speriamo che non lo faccia mai, speriamo, speriamo che D'Alema se ne faccia una ragione Parliamo di questa questione, perché c'è il rischio che costruendo nuovi stati poi si faccia in realtà speculazione di vizia? Il risultato non è ancora passato, si aggira, è un corto ritorno, sono molti anni, dal 2007 esattamente, che si cerca o con legge o con colpi di male di inserire una norma che con la scusa di costruire nuovi stati, voglio essere chiaro, io ovviamente come tutti sono in favore, Siamo stati moderni, funzionanti, economicamente attivi, come accade in qualche particolare e come accade in Europa Lei ha detto che mi porti un po' in cosa? No vogliamo dire un pochino Siamo insieme che si sta alzichando Il rischio che ti fa Allora, devo dire di una delle operazioni, poi almeno ho portato il mio tifo, una delle operazioni migliori, che negli ultimi anni l'ho fatta per esempio a Juventus, con il suo stadio a Torino grazie, grazie mille Giorgio se siamo capi a questo? ma si, quanto che ci sei ma si, ma si fa la firma però qua grazie mille grazie mille Giorgio